Marco Brambilla è responsabile editoriale di That's Poker Magazine. Vogliamo presentare questo nuovo e già vincente progetto. Ciao Jack, il progetto è stato lanciato a inizio febbraio con una campagna abbonamenti, è una rivista interamente digitale e l'innovazione è semplicemente questa. Cerchiamo attraverso social group, attraverso l'agicos.it che è l'agenzia che lo produce, di veicolare questo magazine a tutti gli appassionati di poker, anche i nuovi appassionati, perché sempre la nostra mission è quella di rendere il gioco del poker e la pratica del poker una pratica popolare. Questo significa che la rivista viene prodotta e consegnata digitalmente, la puoi sfogliare da internet, la puoi sfogliare da iPad, da iPhone e riceverla per posta elettronica. Semplice l'abbonamento, basta andare sulla pagina Facebook, cliccare mi piace e accederà alla pagina della registrazione. E lì, ogni mese arriverà per posta elettronica. Ovviamente lo so perché ho provveduto subito ad abbonarmi e a vedere tante bellissime interviste, alcuni protagonisti del nostro poker, però hai scelto di essere qua anche a Lipo, evidentemente c'è una volontà di essere presenti anche a livello cronicistico? Assolutamente sì, il progetto appunto era embrionale nella fine del 2011 e abbiamo cercato di evolverlo creando nuove sezioni. Una sezione che mancava era assolutamente quella del fronte live del poker con speciali e focus su quello che è l'evento del mese. Significa che dedichiamo l'attenzione su tutti i fronti a quelli che sono o il personaggio del mese, che è sempre l'uomo o la ragazza copertina dei tipi magazine, fronte live, in questo caso seguiremo Lipo, quadracampione per il mese di marzo, fase appunto del lancio del ritorno del poker live con i circoli, sarà un altro focus per quanto riguarda le news del mondo del poker italiano. Sul fronte estero invece daremo molta più attenzione a quella che è ancora la fase di risoluzione delle problematiche di full tilt. Questi le anteprime per il numero 8 che esce il 20 di marzo. Temi quindi estremamente interessanti, tu sei attento alla realtà editoriale, adesso già alcuni quotidiani di grandissima importanza statunitense hanno detto che entro cinque anni andranno solo online. Cambia veramente l'editoria nel mondo? Sicuramente sì, è un dato di fatto che chi sta investendo nell'editoria tuttora ha dimenticato il cartaceo o in buona parte punterà soprattutto sul digital device, ovvero ricevere una rivista o leggere o fruirla attraverso pad, tutti hanno un iPad o un terminale Android per consultare questi magazine. La tendenza sarà anche quella di avere dei magazine sempre più veloci nella loro fruizione ed è per questo che anche il desk poker magazine che si può appunto leggere dal sito www.tpmagazine.it ha un numero di pagine molto ristretto. Focalizziamo l'attenzione su argomenti forti, cerchiamo di selezionare al meglio e per selezionare al meglio utilizziamo anche la porta di quello che è il gruppo in Facebook che ci segnala ogni giorno degli argomenti forti e su quello si creano delle discussioni. Ogni mese l'argomento forte più discusso all'interno del gruppo Facebook riceve la sua visibilità con una pagina dedicata all'interno del magazine. Mi devo rassegnare a non andare più in edicola insomma? Ma a comprare altre riviste forse. Detto questo da uomo di poker, sei qua all'Ipo, 869 iscritti, un torneo che spesso batte se stesso a livello di record, ti sei chiesto qual è la ricetta vincente analizzando il buy-in, analizzando i soggetti presenti, cioè rendendoti conto in qualche modo di che cos'è il futuro del poker? Il successo dell'Ipo è dovuto semplicemente dal mio punto di vista e per la mia esperienza a due fattori importanti, logistico ovvero la location che è ancora insuperabile. In Italia secondo me la sala di campione d'Italia è ancora la più bella e tra le altre cose è stata la prima che ho conosciuto nel 2008 per quanto riguardava l'organizzazione dei tornei live. Il secondo aspetto è comunque sia struttura del torneo per come è realizzato, distribuito nei vari dei 1, 2, 3 e final table, ciò significa che l'organizzazione ha un merito perché la struttura deriva appunto dall'esperienza dell'organizzazione, in questo caso stiamo parlando di Andrea Bettelli che ha comunque iniziato come mi raccontava prima senza grosse aspirazioni perché sapeva comunque sia che i grossi numeri sarebbero arrivati soltanto sulla formula era vincente. Gli è andata bene alla prima, la formula era vincente e continuerà a crescere secondo me. Uno dei pochi tornei, anche questo è un fenomeno editoriale interessante, che non nasce promozionato da una poker room ma da un gruppo che lo fa funzionare bene e poi la poker room, in questo caso Titanbet, arriva a sponsorizzare. Sì, diciamo che è una piccola rivoluzione copernicana come sempre quando si cerca di osare in qualsiasi settore imprenditoriale o comunque sia del divertimento. Con formule differenti molte volte ci si accorge che il mercato è tuttora molto ampio e che il giocatore aspettava quello. Io sono già scritto come ho detto, ma ricorda chi ancora non lo fosse, cosa deve fare per iscriversi a Deaths Poker Magazine? Direttamente su www.tpmagazine.it o cercare in Facebook la pagina di Deaths Poker Magazine, ce n'è solo una e quindi la troverete facilmente. Cliccare mi piace e diventate automaticamente abbonati.